Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Sono anche questa volta liscia, o meglio, avevo fatto la piega, sapete, con la piastra a onde, però non ho capito come mai e il risultato praticamente è stato che alla sera le onde c'erano e il giorno dopo ero praticamente dritta, nonostante abbia messo la lacca e quant'altro, però con la piastra lì a dire la verità non mi dà grossissime soddisfazioni, comunque vabbè. Allora, volevo farvi vedere un po' di acquisti vari, sono stata con i saldi a comprare delle scarpe perché ne avevo bisogno, nel senso che l'altro paio di stivali che avevo comprato Beggiolini si stanno distruggendo, essendo nuovi non ho nessuna intenzione di buttarle via, come finisce la stagione andrò dal calzolaio a farmeli sistemare, però ne volevo un paio da usare soltanto nel tempo libero, cioè per dividerli insomma dal lavoro al tempo libero, perché se no andare via anche al sabato e la domenica con gli stivali distrutti non è che mi piaccia molto, nel senso che quella volta che sono a casa, specialmente la domenica perché di solito è il sabato lavoro, mi piacerebbe proprio essere vestita bene, ecco, diciamo così. Comunque ne ho preso un paio, tipo country, non sono adatti per ballare questi qua perché li ho provati, però avendo la stella sotto, alcune coreografie veramente vi incastrate per terra non è il massimo, però per chi piace il genere dello stivale country come a me, prendeteli tranquillamente, se invece li dovete comprare per ballare fate sì che la sua la sotto sia liscia. Comunque costavano 29,90 quindi poco rispetto a quello che c'è in giro, sono questi qua semplici bordeaux e hanno la particolarità appunto di avere questa cosa qua come quelli da country. Ne ho approfittato a prenderli perché in giro ho visto di quei prezzi veramente da mal di testa. E l'altro paio di stivali con il pelo si tratta di questi qua, stavolta li ho presi grigi, sono un po' più alti di tanto così rispetto a quelli marroni e in più hanno la particolarità di avere il fiocchettino dietro, anche questi 29,90 erano tutti in offerta, invece che 39,90 c'erano 10 euro in meno di saldo, quindi ho risparmiato 20 euro di due paia e quelli marroni a me mi si sono rotti praticamente qua perché non ho capito, io ho cambiato modo di camminare, ci devono essere probabilmente dei problemi che sia forse la schiena o che non lo so, dovrò andare a fare una visita, fatto sta che praticamente sto distruggendo adesso, prima distruggevo le scarpe qua, adesso le distruggo qua. Boh, comunque questi sono veramente comodi, per quello sono comodissimi. Poi sono stata alla Lidl due volte, in due tempi diversi e ho preso, allora intanto vi faccio vedere che ho dovuto comprare un mouse perché il mio Mac, quello là dietro, non funziona più il mouse, arrabbiatissima perché tra le altre il mouse è molto fastidioso, c'erano mouse, il Mac è molto fastidioso, c'erano mouse da 7 euro, non ho potuto comprarli perché il Mac vuole il mouse particolare, il suo, cioè vorrei venderlo sostanzialmente. E comunque niente, ho preso questo qui, classico, 14,90 euro, era quello che costava meno di quelli appunto per il Mac, e boh, l'ho preso da... Ma chi è 14,90? Vi sto dicendo una stupidata. Dov'è l'altro scontrino? 14,90 è un'altra roba. Niente, vabbè, non trovo lo scontrino. Comunque, devo averlo preso sempre sui 15 euro, eh. Comunque deve essere qui. Ah, eccolo qua lo scontrino. 12,90 euro, l'ho preso da Leso, Unieur, no, Leso, come si chiama Leso però? Expert. Eccolo qua, lo trovate da Expert se anche voi avete queste problematiche qua. Poi, quello a 14,90 sono le foto, ho fatto stampare delle altre foto da ricorda, sapete che me ne avevo parlato in un video, c'era la promozione che se stampavo 100 foto mi venivano fuori a non so quanti centesimi, però se vi scaricate l'app, eh, in automatico poi vi arriva l'email a casa. E praticamente niente, queste sono le stampe. Vediamo un po' cosa vi posso fare vedere. Intanto le appoggio qua. Queste qui sono le stampe che ho fatto. Potete scegliere voi come sistemare la foto, nel senso che vi dicono se la volete più centrale, più di lato, in base anche a quello che, appunto, volete che si veda. Questa era la neve. Comunque, cioè, ho deciso di stampare più foto possibili, perché ho sempre il terrore che mi vada... insomma, che mi si rompa il telefono e che quindi questa è la Verona sotto la neve, proprio nel centro di Verona. E ho paura che mi si rompa il telefono e che quindi mi si perdano tutte le foto, di conseguenza ne sto approfittando quando ci sono queste offerte per stampare il più possibile. Questi erano i miei regali di Santa Lucia di un anno. Stampo tutti i ricordi. Qua eravamo su Arango a vedere i mercatini di Natale. Questo è quello che si vedeva, abbiamo fatto il lago di Garda, per andare a Arango. Poi ci sono, vabbè, le foto qua di mio amoroso. Questa, guardate che meraviglia. Cioè, sembra praticamente un mare di nuvole in versione cielo. Guardate che roba. Fantastica. Sembrava veramente una cosa fuori da ogni... Poi questa era una cena. Fuori da ogni, comunque non ho finito la frase. E questa è un'altra foto. Vedete che comunque le foto, dipende anche da come le avete fatte col telefono, però devo dire che la qualità non è male, è appena uscita dal parrucchiere. Questa è Villafranca di Verona, quando ci sono il periodo di Natale, insomma, ci sono tutte le luci, così. Questa è Rosolina. Io a Rosolina, guardate che rossa che ero, senza trucco né niente, ero Bordeaux. Ma soprattutto, guardate che bellissimo tempo che avevo beccato a Rosolina. Cioè, l'acquazzone, praticamente. Eccolo qua. E questo è stato proprio quest'estate che sono stata ingiornata. Questo è un animale strano che ho trovato giù da me in giardino. Guardate che roba. L'ho fotografato perché non avevo mai visto una roba del genere. Questa qua è stata la piena dell'Adige a Verona. Guardate, praticamente era arrivata a Muro. Era strapieno. E tra le altre, questo qua era stato dopo l'allerta perché eravamo a casa, da scuola. Nel senso che le scuole erano tutte chiuse. E le foto che le ho fatte dopo, quando l'allarme, insomma, è rientrato e ho potuto andare al lavoro. Vediamo un po'. Sì, poi ci sono, in alcune foto, vabbè, ci sono io. Queste sono i mercatini di Natale di Brunico, di quest'anno. Brunico, eccolo qua. Ve li faccio vedere un po' così a random. Questi sono i regali di Santa Lucia di quest'anno. Questo è stupendo. Qua è Ponte Pietra, no? Dovrebbe essere Ponte Navi, se non sbaglio. Guardate le nuvole che belle che sono. Questo è un albero di Natale che era in via Roma, tutto glitterato. Questo non so se riuscite a vederlo. Praticamente è il presepe sotto acqua peschiera. Ogni anno andiamo a vederlo. Fanno un presepe sotto acqua. C'era nebbia anche quel giorno lì. E' bello, bello. E' carino, nel senso che è diverso dal solito. Vedete? Forse si intravede un po' meglio qua. Guardate la nebbia, com'era. Cioè, tutta questa qua che vedete è tutta nebbia che arrivava dall'acqua. C'era un freddo, ma un freddo. Questa era Vicenza. Siamo stati in giornata a Vicenza per andare al DM. Questo era Bardolino, da sopra la ruota panoramica. Hanno fatto la ruota panoramica fino a dopo le festività di Natale. Questa sono io, in versione dopo il bagno, praticamente. Poi ho delle foto di Capodanno, che in teoria le avrete viste in un video, penso. Poi vediamo un po'... Niente, poi c'è insomma foto di mio compagno e boh. Comunque, ecco, ve l'ho fatto vedere un po'. E andate a scaricarvi l'app, perché comunque, oltre alle foto, ve l'avevo anche già detto, oltre alle foto, ricorda, fa anche i libri, i poster, i calendari, le tazze, i cuscini. Fa un po' di tutto, anche le cover del cellulare. E spesso, appunto, sono in super offerta, quindi date un occhio perché ne vale la pena. Poi, torniamo a noi, sono stata appunto alla Lidl. Ho comprato, questo dovevo averlo preso qua, sì. Doria, biscotti semplici, l'avena, 1,49 euro, farina integrale, 100%, avena e fave di cacao. E non hanno niente, perché nel senso hanno olio di girasole, zucchero grezzo di canna e bon, quindi sono fatti bene, era la prima volta che li vedevo. Poi ho preso lo sciroppo d'acero, nella settimana americana, 3,79 euro, perché noi lo adoriamo, sono 250 ml. Lo mettiamo addirittura anche nel caffè. Poi ho preso pistacchi californiali senza sale, ne ho prese due confezioni. Costavano 2,79 euro all'uno. Scusate, penso di averla presa e da giorni che ho mal di gola. Comunque, sono questi qua. La confezione verde erano salati, la confezione azzurra erano non salati. Io li ho voluti non salati perché voglio fare la pasta con panna e pistacchi, ma in più ho trovato una ricetta per fare la crema di pistacchi fatta in casa, dolce o salata. Salata per fare il condimento della pasta, oppure dolce per spalmare la mattina e volevo provarla. Sono dagli Stati Uniti, sono 250 grammi. Ne ho presi due pacchi perché un pacco glielo regalo per San Valentino a mio amoroso, insomma. Poi, Neutro Roberts, anche questo qua ne ho presi due, uno già impacchettato. Ho deciso quest'anno a San Valentino, di solito non ci facciamo regali se non qualche cioccolatino o che, ma quest'anno a San Valentino ho deciso di fare due o tre cose mirate, cioè ho preso sì dei cioccolatini, poi ho preso un sacchetto, quelli tipo a zaino, che costava poco, un dodorante e un pacco di pistacchi, quindi roba comunque mirata che può servire e che così evita di comprarselo in lui, lo compro io, faccio una spesa unica e boh. E ho trovato, ah questo me lo sono preso anche per me, comunque vabbè lo stesso, Neutro Roberts, uomo, non l'avevo mai visto questa fragranza qua, adesso ho capito perché, perché è versione uomo, ma la uso lo stesso anch'io. Fresco e senza marina, 0% sali di alluminio, 0 macchi, sapete che a me Neutro Roberts piace tanto, infatti l'inci non è male, adesso la profumazione, la assaggio con voi. Beh non è male comunque, si sa tanto da uomo, vabbè stesso, poco mi interessa, saprò da uomo anch'io e pace ame. Un euro e 99, poi sono ritornata una seconda volta, io ho comprato due cose, questo che glielo metto sempre per San Valentino a mio amoroso perché lui vuole mestoli personali e c'ha ragione, anch'io sono così. Allora schiumarola, 2,99 euro, però eravamo andati da Ikea e si era preso appunto dei kit così, però lo cercavo proprio col manico più forte di acciaio e con una plastica dura perché gli ultimi li ha bruciati e spero insomma che questo qua possa essere quello giusto insomma, penso che il prezzo più o meno sia stato come quelli di Ikea. E invece per me, dopo anni che la cercavo, mi sono presa la spugna per il trucco 2,99 euro fatta così, della linea Mio Mare. Nella Mio Mare avevo preso un kit di pennelli e non sono male per quello, quindi se li trovate in giro o se Lidl li rimette fuori, comunque comprateli perché costano poco e sono abbastanza validi. Però volevo provare questa spugna, qua c'è anche la Beauty Blender, volevo provare questo pennello qua, aspettate che non mi rimane in mano sul più bello, con praticamente questa spugnita qua perché faccio fatica con la Beauty Blender per spalmare bene il correttore, quindi questa magari con un po' di acqua a termare la inumidisco e la passo prima di appunto la Beauty Blender. Di solito la cercavo però era quella che andava super a ruba e sto giro l'ho trovata, domani già la metterò in uso. E basta ragazzi, questo è quanto, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.